Non si fa economia sulla salute, il diritto alla salute è inalienabile, quindi il reparto deve essere così com'è, anzi deve anche essere potenziato. I genitori dei pazienti della reumatologia pediatrica di Chieti oggi sono scesi in piazza Pescara per chiedere alla giunta regionale di non declassare il centro di eccellenza nazionale da unità operativa semplice dipartimentale a unità solo ambulatoriale. Durante una manifestazione che si è svolta in piazza Unione davanti alla sede del Consiglio regionale, oltre 100 persone hanno lanciato appelli sull'importanza del reparto nella diagnosi precoce delle malattie reumatiche infantili, ricordando che sono patologie gravi che coinvolgono diversi organi del corpo umano che possono determinare complicanze a carico delle articolazioni colpite, danni oculari, problemi renali e cardiaci, ritardo nella crescita. Ci saranno tempi più lunghi, non avremo più l'eccellenza dei dottori che attualmente ci seguono. Io vengo da fuori regione, sono più di 7 anni che grazie a questo reparto riesco ad avere per mia figlia le cure giuste, l'assistenza giusta e tutte le terapie necessarie. Se il reparto verrà meno, sarà molto più complicato curare mia figlia. E nonostante i miei viaggi della speranza a Chieti, probabilmente sarò costretta ad andare ben oltre i chilometri che faccio attualmente. E la cosa è ingiusta. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che appoggia la battaglia, ha evidenziato che i piccoli pazienti attualmente in trattamento sono oltre 400, il 40% dei quali proviene da fuori regione e rappresenta una mobilità attiva importante. Io sono stato invitato, sono qui, sono accanto a loro, farò di tutto. Diciamo oggi alla regione, chiediamo di rivedere questo atto, a mio avviso, irresponsabile e vergognoso, di riclassificare la reumatologia pediatrica in UOSD con un vero primario e un centro di costo. Ci auguriamo che ci ascoltino. Tutto qui.